Cosa ha acquistato questa mattina? Ho calzini e dolci. Ha speso parecchio? No, sinceramente no. Come si sta regolando per le feste natalizie, regali? I regali mi sto riducendo proprio a comprare il minimo indispensabile, guarda. Quindi cerca di risparmiare? Sì. Come mai? Dubbiamente sì. Perché? Per la crisi economica? Perché costa tutto parecchio. Costa semplicissime. Quindi a Natale cosa farà? Regali di Natale più piccoli? Sia il numero e sia il regalo più piccolo. Questa crisi economica c'è o non c'è? C'è. In che modo ne risenti? Allora, nel mio piccolo cerco di acquistare prodotti locali, aiuto mio padre che ha un pezzo di terra e quindi prendo frutta e verdura del campo di mio padre. E cerco di fare delle spese più oculate, nel senso compro o meno, ma cerco di comprare meglio. Così. I regali di Natale vado in viaggio perché quello comunque non rinuncio. O poi una volta là compro il souvenir del posto e le porto alle mie amiche. Però a viaggi e vacanze non si rinuncia mai? No. Per sentirsi un po' meglio, diciamo. Sì, tipo il cellulare nuovo non me ne frega niente, altre cose tecnologiche magari mi interessa di meno, però il viaggio... Certo, questioni di priorità, insomma, uno risparmia laddove... Esatto, però al viaggio no, non rinuncio. Allora, come si è regolata per i regali natalizi? Niente perché non si può, perché io prendo 3,80 al mese di pensione, perciò con 3,80 al mese non si vive. Per cui... Per cui niente, mi hanno invitato, da un'altra parte, allora approfitterò dell'invito, ma a casa niente. Come cerca di fare economia, di riuscire ad andare avanti? A vedere qualche cosa alla spesa che costa sempre meno, a uscire sempre il più tardi possibile, così ci sono anche risparanti, basta così. Come stanno andando le vendite a ridosso delle vacanze natalizie? Un pochino rilento, perché i prezzi sono parecchio alti, quindi la gente preferisce comprare meno, compra la qualità, ma compra meno rispetto ad altri tempi, via. Come mai questi prezzi sono così alti? Eh, questo non glielo so dire. Cioè, solitamente si consiglia la frutta di stagione proprio perché costa di meno, non è più così? Non è così? Non è così, la gente preferisce spendere meno, prende anche lo banche, diciamo, di scarsa qualità e preferisce spendere meno, via. A cosa hanno rinunciato a causa di questa crisi economica? Cos'è che comprano di meno? Di meno secondo me la carne, perché è alle stelle, carne e pesce. Per quanto riguarda frutta e verdura? Diciamo che c'è più consumo, via, rispetto alla carne e al pesce. Poco, si fa poco, non è molto renditizio. Le persone acquistano molto di meno rispetto agli anni passati? Acquistano molto meno, sì. A cosa rinunciano? Eh, vabbè, il superfluo senz'altro, le cose, gli oggetti, le cose, il superfluo senz'altro, dopo ecco. Comprano le cose che costano meno, si vede proprio che risparmiano, risparmiano. Anche quindi sui beni primari, sul cibo? Sì, su tutto. Comunque non ci sono soldi, la gente proprio si vede che non ha soldi. Quindi questa crisi è reale, non è solo una psicosi? No, no, è proprio reale. E poi come? Si sente, anche loro, vabbè, anche con le caramelle, con le cose da mangiare. Io, vabbè, vendo oggettistica, è già una cosa superflua. Però sento che anche loro che vendono da mangiare fanno molto, molto meno degli altri anni. Questa crisi economica è reale oppure si è creato un po' una psicosi intorno all'argomento? È reale, è reale. Quindi ha registrato un brusco calo delle vendite per quanto riguarda il suo settore? Questo senza altro, anche il mangiare ne risente, ne prendono meno, spendono meno, chiedono molto dei prezzi, poi levono, tolgono. Quindi si rinuncia a molte cose? Si rinuncerà ancora più a altre cose, ancora meglio di senza altro.